Nel novembre 2011 Rosalinda Cerentano negò di avere una storia con Simona Borioni, separata e mamma di un bimbo. La definì sempre e soltanto un'amica cara, davvero speciale, evidentemente. Confidente, tenera, Simona le è sempre stata accanto. Le due difficilmente da allora si sono separate. Eppure a Roma Fiction Fest 2013 sono arrivate in coppia, mano nella mano, sorridenti e spensirate sul pink carpet. La figlia del mulè